Recentemente sono stato attaccato, non è una novità, accade sempre che vengo attaccato perché comunque le mie opinioni sono impopolari, dire quello che pensi soprattutto quando la tua strategia di marketing si basa sul clickbaiting ovvero sul fatto che determinate persone vengono soprattutto su youtube dove si può commentare nel tuo podcast perché credono di trovare un brano e invece trovano la recensione del brano, ma io come devo chiamarlo un podcast in cui parlo di un certo brano? Non me lo sono di certo inventato io, la differenza è che io funziono, faccio un sacco di click e un sacco di gente quindi parla, però c'è tanta gente rispettosa che dice la sua e poi c'è gente poco rispettosa, ma non è questo il caso perché adesso ho deciso di non rispondere a chi critica i miei contenuti che hanno tutto il diritto di farlo. Recentemente sono stato criticato da membri del mondo del podcast diciamo, che è un mondo difficile, un mondo dove nessuno guadagna una lira, dove nessuno riesce a vedere i propri sogni realizzati ed è un mondo frustrante per chi io lo conosco, chi un minimo mi conosce sa che io ho fatto musica per dieci anni, dieci anni a fare brani, dischi, cose, senza una lira per promuoversi, ha voglia a fare belle canzoni, nessuno di gaga se non hai una spinta, non hai soldi per promuoverti, ho fatto di tutto per riuscire ad arrivare, ad emergere, ho anche minacciato persone per avere un minimo di visibilità, mi sono un po' inguaiato, ho fatto di tutto, ho organizzato serate, quando si poteva ancora fare serate, tanti anni fa, e poi il mondo delle serate hip hop è finito ed è sfociato solo nel DJ set perché se vuoi fare serate e guadagnare devi chiamare certi personaggi che prendono migliaia di euro per 5 minuti, per 20 minuti di set e onestamente mi rodeva, quindi per idealismo ho smesso di fare serate. Ho iniziato, ho intrapreso la mia carriera teatrale debuttando come attore protagonista, autore e regista nel 2018, organizzandomi da solo un piccolo tour, poi ho dovuto stoppare, quando ero pronto a ripartire con diversi progetti e un bel po' di ragazzi, ho dovuto stoppare tutto per il covid, anche la mia carriera cinematografica da regista si è dovuta interrompere brutalmente perché ero in giro con un cortometraggio che aveva preso dei riconoscimenti, comunque delle selezioni internazionali, stavo lavorando a nuovi progetti, non mi sono dovuto fermare per una questione di budget perché nessuno ti caga, ho dovuto fermarmi da un punto di vista adesso, ho un nuovo corto pronto da girare, non posso muovermi dalla mia regione, sono in zona arancione e presto zona rossa, insomma, ho fatto mille tentativi e forse si può dire che abbia fallito ovunque da un punto di vista di successo, va bene così, non c'è un problema, mi ricordo quando nel 2015 ho esordito con un brano, cioè con un disco in un'etichetta importante, distribuzione The Orchard, insomma, è lì, non vendi perché che devi fare, è difficile, quindi so cosa vuol dire fallire, quindi io capisco bene la frustrazione di un mondo che è quello del podcasting, io quando facevo sport giocavo a pallannuoto che non gira un euro neanche alle olimpiadi per intenderci, quindi io sono sempre stato in quella fetta, quella dell'idealista. Bene, sono stato attaccato senza motivo perché io non stavo parlando di me, ho fatto una domanda in un gruppo riguardo una cosa che non conoscevo con umiltà e subito ogni volta che intervengo qualcuno mi attacca perché invidiosi ovviamente del fatto che sono l'unico podcaster che non ha contatti grandi, che non ha community, chi c'è in top 10, chi c'è Fedez, insomma, forse l'unico podcaster puro sangue che guadagna da questa roba è Rick Tufer, però a fatti concreti, anche un Montemagno, lui ha una community video e poi sposta in podcast, quindi comunque guadagna, ma comunque viene dal web, la zanzara viene dalla radio, Fedez ha dichiarato che col podcast è più una rimessa che altro, lo fa per un... ecco, sono l'unico podcaster indipendente che in cameretta con un microfono effettivamente porta a casa uno stipendio, nulla più, nulla meno, che è quello che mi basta per vivere, per mettere due soldini da parte e per potermi permettere una cena fuori una volta settimana, una volta ogni due settimane e per potermi permettere il caffè quando voglio, tutto qui, nulla più, nulla meno di quello che guadagna un operaio con la differenza che non ho grandi spese, non devo andare da nessuna parte ed effettivamente è comodo che mi sveglio quando mi pare, registro quei podcast giornalieri, che sono un privilegiato in questo momento e io mi prendo gli aspetti positivi e gli aspetti negativi di tutto questo, ovviamente per arrivare ho dovuto studiare determinate strategie come le letture delle canzoni unreleased, come recensire ad esempio X Factor che adesso tra l'altro ha una partnership con Spotify, quindi comunque io faccio delle recensioni rapide per raccimolare quei pochi click necessari e poi niente, va così per quanto riguarda Spotify, cioè insomma devo inventarmi ogni settimana, ogni mese una strategia differente, faccio centinaia di recensioni al mese facendomi un culo della madonna e ogni giorno non ho nessuna certezza e sono stato attaccato da un qualcuno che non è che mi interessa tanto chi fosse questo qualcuno, che non so chi sia, ma mi ha fatto riflettere il fatto che lui mi ha detto cose che un anno fa avrei detto io quando ero nella sua posizione, quindi ho rivisto me stesso attaccarmi praticamente, quindi non è questa persona mi interessi o non so neanche chi sia però è stato pazzesco per me, perché poi mi sono soffermato, ho fatto una riflessione, l'ho anche pubblicata, l'ho scritta e rileggendolo ho detto mamma mia, c'è grande maturità da parte mia in questo anno che ho acquisito perché un anno fa ragionavo in maniera completamente diversa, un anno fa non avrei mai accettato di fare un podcast scegliendo determinate strategie per andare avanti, criticare, io recensisco, cerco di essere clemente il più che posso a volte critico, ma a me non piace la critica, non piace attaccare gli artisti, però purtroppo devo essere fedele a quello che penso io so cosa c'è dietro un progetto musicale, so che comunque anche l'artista che sembra che sta coglionando gli altri comunque so che c'è una parte del suo cuore, quindi a me ferisce pure quando devo aprire il microfono e devo attaccare qualcuno perché è uscito un prodotto importante che è in tendenza e devo parlarne e non posso parlarne in maniera positiva o quando devo recensire i ragazzi di X Factor e magari dire non mi piace, io non volevo essere in questo lato io ho fatto di tutto per non essere in questo lato, a un certo punto ho detto io devo mangiare io devo mangiare, ho studiato le classifiche per mesi, ho detto io so che facendo queste cose qui potrei iniziare a raccimolare clic e magari posso crearmi un mestiere il podcasting in Italia paga pochissimo, pochissimo, se io fossi in America prenderei tre volte quello che prendo qui in Italia se parlassi l'inglese arrivassi insomma a un pubblico mondiale, un inglese pessimo, chi mi segue lo sa e quindi di conseguenza devo fare tante recensioni, devo fare tanto materiale e non è vero che io quando faccio una recensione poi la gente che segue quell'artista clicca erroneamente sulla mia recensione siete voi che mi seguite, c'è una community di Spotify che conta le oltre 3000 persone che clicca siete voi che comunque seguite quello che dico bene o male e poi ci sono dei brani unreleased che io vado a cercare, che recensisco o che leggo che mi danno quel numero di clic per guadagnare un po' di più e poi tante cose che faccio nel corso della mia giornata affinché io possa offrire un intrattenimento perenne e anche culturale che mi interessa come le varie sottorubriche che tengo c'è un grande lavoro dietro, cioè fare sei recensioni di Artist X Factor in due ore richiede esperienza, richiede un lavoro fare tanti podcast, fare oltre 600 recensioni parlare di un artista e ogni volta soffermarsi sui vari aspetti è difficile perché uno vuole sempre reinventarsi i vocaboli dopo un po' finiscono, le idee anche e non è che ogni volta che accendo il microfono magari ho quello sprint o quella voglia di parlare fa parte del mio lavoro ciò che mi colpisce è sempre che devo avere a che fare con tante persone che parlano, criticano e che non sanno quanto lavoro c'è dietro non sanno soprattutto l'universo che c'è dietro quanto ho sudato per arrivare fin qui io oggi parlo e qualche accentazione tonica la azzecco anche io ho studiato tanto per imparare a parlare ho lavorato tanto ho fatto ben sei spettacoli teatrali mi sono confrontato col pubblico ho cantato in diversi palchi ho conosciuto artisti che oggi sono famosi hanno suonato nei miei palchi prima di esserlo ho fatto tante guerre a livello sociale mi sono battuto per i giovani mi sono fatto un culo tanto sempre nella mia vita per i miei ideali ed oggi finalmente dopo tanti sacrifici ho trovato un canale che mi permette di monetizzare ed è la prima volta della mia vita in cui posso dire di non essere un morto di fame dopo 25 anni in cui non mi sono mai potuto permettere una cena con gli amici non mi sono mai potuto permettere nulla assolutamente nulla se volevo avevo il vizio di farmi le canne che oggi non ce l'ho più ma se volevo fumare dovevo spaccicchiare perché se no non potevo permettermi quel vizio non avevo altri vizi quindi per fumare quando vivevo a Roma che i miei mi davano una mano per studiare sempre che studiavo teatro io per fumare mi toglievo il mangiare io non mangiavo non avevo più una lira dovevo campare con 150-200 euro al mese provateci voi è difficile cioè si può fare ma è molto difficile io mi ricordo i tanti problemi che ho avuto nella mia vita ho affrontato diverse depressioni ho affrontato tanti problemi che poi ad oggi facendo il totale mi sono utili in ogni cosa che faccio ad oggi continuo a fare arte e tutta roba varia che presenterò uscirà eccetera però con calma la faccio con passione ecco questo voglio dire a tutti quelli che sono qui e che magari rompono i coglioni che non è facile intraprendere una strada ed oggi nel podcasting io sono un professionista mi sono fatto il culo per esserlo e se in questa categoria faccio la serie A è perché magari in altre categorie ero stufo di far parte di serie minori e ho capito che in questo canale potevo emergere sono emerso che cosa volete da me? non sono stato io a fare una rassegna stampa che mi dipinge come il più cliccato d'Italia non sono stato io a fare le classifiche dove sono sempre dei primi posti cioè non ho inventato niente tra l'altro neanche il metodo con la quale mi promuovo io non ho inventato nulla io accendo un microfono e parlo faccio l'estrazione e pubblico tutto il resto accade da sé ora che volete da me? ci tenevo a fare questo podcast per comunicare ogni tanto anche quello che sento io sono una cameretta c'ho mia madre in là che per farla sta zitta a due minuti e non far casino perché non sa cosa faccio non capisce non ha il minimo rispetto di quello che faccio crede che io sto qui a giocare giustamente perché non può capirlo e quindi di conseguenza quando le chiedo per favore taci cinque minuti devo registrare è il mio lavoro ci metto mezz'ora ogni volta ad avere un'atmosfera di silenzio nella mia cameretta che devo fa? ci sono tanti problemi che insorgono anche far capire cosa fai la gente non sa neanche cos'è un podcast faccio la radio questo devo dire no io faccio il podcast che è diverso perché la radio io nonostante sono tra i più cliccati io ho mandato i curriculum alle radio nessuno gliene frega un cazzo di me ho mandato i curriculum alle case discografiche con testi meravigliosi con poesie con brani con demo nessuno gliene è mai fregato un cazzo di me ho beccato solo una volta una selezione a Sanremo Giovani con un brano che avevo già pubblicato e mi ha rovinato la vita punto tutto ciò che ho fatto nella mia vita dagli spettacoli la musica il cinema l'ho fatto da solo mi piacerebbe fare l'attore di cinema mi piacerebbe ma chi mi incula? io se voglio fare l'attore di cinema devo scrivermi una sceneggiatura trovare i fondi realizzarmi un film e poi insaccarmi come attore ah è così è così come vale per tutti nessuno mi ha regalato niente bene allora di conseguenza adesso che io parlo a questo microfono pubblico il podcast e qualcuno clicca e tramite pubblicità mi guadagno la pagnotta ma che volete da me? io mica vado da un operaio che si sta facendo il culo e che deve mangiare la merda perché magari c'è un capo di merda che lo tratta a pesci in faccia e per portare a casa i soldi deve farsi calpestare ma io non vado lì all'operaio a digliati fai calpestare io vado a dirgli mi dispiace sei un grande per me hai due palle è così che per la tua famiglia sacrifichi te stesso e allora perché questa cosa non si può dire per gli artisti? sono tanti progetti che ho in canna irrealizzabili in questo periodo storico di covid irrealizzabili il settore dello spettacolo è in ginocchio tutto ciò per cui ho studiato e lavorato è finito l'unica cosa che potevo fare a marzo era accendere un microfono che manco ce l'avevo non ho dovuto fare questa da mio fratello e parlare esprimermi dire la mia l'ho fatto e il mondo mi sta premiando nessuno mi ha detto bravo nessuno perché io non vado in giro a dire oh sono questo faccio questo io mi faccio i cazzi miei però non permetto alla gente di criticare il mio operato vuoi criticare quello che dico? ok ma non ti permettere di criticare me perché tu non sai la mia storia non sai quanta roba ho fatto non sai chi sono non sai da dove vengo di tutti i casini che ho dovuto affrontare in mezzo alla strada di tutta la gente che ho conosciuto non sapete un cazzo di me e allora non vi permettete di criticare la mia persona e questo è quanto fa male rivedere se stessi dall'altro lato perché io sono stato il primo a dire oh ma quello ce la fa perché fa così cosa perché il mondo è ingiusto e io faccio la qualità quello no ma che cazzo ne sapete di qualità che vuol dire fa la qualità ho fatto tre podcast audio libri stata fantasma l'esilio di van gogh li ho anche promossi ci misi tutti i soldi che avevo per promuovere l'esilio di van gogh 300 click 300 click diretti su spotify nonostante la promozione su facebook andò benissimo 70.000 visite con 550 euro che erano tutti i soldi che avevo 300 click stata fantasma un progetto in cui ho gettato l'anima l'ho anche rimosso adesso l'anima ci ho gettato l'ho scritto c'è veramente racconta la mia vita metaforizzata quanti click ha fatto 120 e allora a un certo punto dici mi sono rotto il cazzo visto che tutti fanno i soldi mo li faccio anch'io ed eccomi qua questa non è la storia di un furbetto che si è svegliato la mattina questa è la storia di una persona che ha sbattuto la testa contro i mulini a vento per 26 anni è sfinito e distrutto zoppicando a un certo punto si è gettato in mare e si è lasciato e si è lasciato andare nella corrente re mi imbarca il destino ha fatto il suo corso e se credete che me ne penta se credete che io voglia tornare sul fronte a combattere una guerra che non è la mia e che soprattutto non porta benefici né a me né a nessun altro mi sbagliate di grosso perché sto monologato podcast ci sta oggi ci sta domani e per quello che mi riguarda ci sarà per sempre quindi non mi rompete il cazzo se volete che mi sto zitto dovete pagarmi profumatamente e dovete offrirmi un altro canale media allora a quel punto ne possiamo parlare mettetemi un contratto allora io a quel punto parlerò smettendo di parlare qui ma parlerò altrove ma fino a che questa cosa non accade io è così che continuerò a guadagnarmi da vivere quindi a tutti quelli che seguono il monologato podcast non vi preoccupate perché sta merda non finisce né mo né mai e a tutti quelli che si stanno iniziando ad affezionare a me non vi abbandonerò questo è poco ma è sicuro perché questo microfono questa parola è tutto quello che ho non ho nient'altro io non faccio video io non metto foto su instagram io non faccio un cazzo io accendo un microfono e parlo e ringrazio Dio tutti i giorni per questa possibilità che mi ha dato che mi ha dato che mi ha dato che mi ha dato